Musica Ciao a tutti amicissimi di Alessandro Tech World e benvenuti in questo video un po' particolare Non ho intenzione di farvi nessun tipo di tutorial né tantomeno video di configurazioni o video unboxing eccetera È un video contest in collaborazione con il canale di Francesco Sgnaolini Intanto mi scuso per l'audio ma mi sto attrezzando per fare video quindi non ho ancora la possibilità di attaccare un microfono esterno per la qualità del video Mi scuso a breve domani mi arriverà la nuova videocamera ma il video dovevo assolutamente farlo oggi Questo video contest cos'è? È un video contest che in collaborazione con Francesco mettiamo in palio un invito per aggiudicarsi il nuovissimo OnePlus 2 di casa OnePlus Sostanzialmente è un invito che vi permetterà di comprare il cellulare di OnePlus 2 In un mondo dove diciamo che le collaborazioni con YouTube sono davvero ostili, è difficile crescere, è difficile accapararsi iscritti Quindi intanto vi invito a mettere un mi piace al video e condividetelo con più persone possibili Quindi dicevo questa collaborazione con Francesco è nata dalla possibilità da parte mia di crescere, di acquisire un po' di iscritti che sono nel suo canale Il suo canale si sta avvicinando all'onda dei 2000 iscritti Intanto grande Francesco fai dei bellissimi video molto smart e veloci Intanto se non avete mai visitato il canale di Francesco trovate in descrizione il link e viceversa anche se state ascoltando il suo video Spero che starete guardando anche questo perché vuol dire che avete sicuramente visionato il mio canale Quindi questo video contest cosa metterà in paio? È un contest per mettere in paio appunto l'invito ad aggiudicarsi OnePlus 2 Come fare, veniamo a noi, come fare per aggiudicarsi l'invito Quindi l'invito verrà sorteggiato ma adesso vi spiego ben bene cosa dovete fare Innanzitutto dovete mettere un mi piace al video e dovrete essere iscritti a tutti e due i canali Una volta che avrete fatto queste due cose vi chiederete ma che commento devo mettere Quindi un mi piace, un commento, basta che scriverete partecipo al contest Noi vedremo questo commento, verificheremo se voi siete iscritti a tutti e due i canali E vi metteremo in una lista un documento E il prossimo giovedì esattamente alle ore 21 circa su Periscope Francesco estrarrà il vincitore Quindi tutto veramente alla luce di tutti, non ci sono imbroglie anche perché non vedo il motivo Ho moltissimi amici che avrebbero voluto avere l'invito ma ho deciso di metterlo a disposizione vostra Quindi che dovete fare? Commentate, partecipo al contest, mettete un mi piace al video E importantissimo dovete essere iscritti a tutti e due i canali Per questo brevissimo video è tutto Vi ricordo il prossimo giovedì alle ore 21 circa in diretta su Periscope Sicuramente Francesco ci sarà Io non lo so perché non sono molto pratico di Periscope ma credo che si possa fare una cosa diciamo in concomitanza con Francesco Quindi spolliciate sui video come dice il buon Lorenzo Condividete con più amici possibili e sicuramente avrete la possibilità di vincere anche voi un invito per questo nuovissimo terminale Come l'ho reperito l'invito? L'invito, chi mi segue sa che sono andato alla presentazione ufficiale di One Plus Tu circa tre settimane fa E non so come, non so perché sono riuscito a reperire questo invito È stata veramente una lotta perché eravamo in tantissime circa 500 persone Sono riuscito a reperirlo Inizialmente volevo acquistare il terminale perché è davvero un terminale con specifiche tecniche È veramente all'avanguardia, questo non è il video per entrare nel merito della cosa Ma ho veramente tantissimi amici che avrebbero voluto l'invito ma ho deciso di, come detto prima, metterlo a disposizione vostra Quindi mi raccomando andate a vedere il video di Francesco Spero abbiate guardato, avete visto anche il mio Vi ringrazio di avermi visto, di aver visto questo video Vi ringrazio di eventualmente esservi iscritti a questo canale E spero rimarrete iscritti ancora per molto Io in questo canale faccio recensioni di networking Ma sinceramente sto iniziando anche nell'ambito degli smartphone Quindi a breve delle grandi novità sul canale Ma questo non è video adatto Quindi vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video Ciao da Alessandro Tech World Ciao, se il video ti è piaciuto Metti un bel mi piace e condividilo con più amici possibili Se non ti è piaciuto, beh, almeno fallo per questa povera mascotte Bella vero? Ciao dalle Sanotec World e al prossimo video